E noi abbiamo scritto questo mezzo Berlusconi, ci vorrei conoscere Berlusconi, musica, vai! Questa mia vita cambierà e ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni mei, la parte interna del spirito sarai La volontà che non si limita, che tu che per me sei già una rivincita Provini Alessio di Bella Ventesima Lei si chiama? Di Bella Alessio Età? 25 anni Professione? Ficologia Di sinistra o di destra? Di destra Bravo, che cos'è la ficologia? Ficologia è quando uno fa buca a buca l'amore Lei è uno specialista? Sì Diciamo pure il numero uno? No, numero Berlusconi non me lo devo fare buca a buca Bravo